ciao ragazzi sono raffaele ed oggi siamo su limbo allora ragazzi è un gioco uguale ad inside però più realistico senza colori nebbia incredibile c'è una mebbia comunque ragazzi continuerò anche inside comunque ora adesso andiamo su prendo la barca e la metto qua perché c'è una corda la sopra come la raggiungo la nostra cosa qua non si può prendere e allora come faccio a prendere quella corda e me lo dici adesso corri una terrapola per ursi vai sì cos'è la terrapola di hello neighbor vai prendilo no no ce l'ho troppo per rossi se io facessi tipo così ce l'ho fatta sì ok ok e questo è da dove cazzo spunga venga sento quanto spucato c'è una corda la sopra ce l'ho una ma non la prenderò questo lo devo portare via ok ok ci ho messo un'ora per capire sta cosa ce l'ho fatta ok bene ok ok che faccio l'ho butto giù cade cosa io non posso andare però c'è una c'è una corda lì c'è una corda che però non posso raggiungere ma che è troppo in alto bene ecco ce l'ho fatta è il miracolo bene corri corri cos'è cos'è c'è una trappola sopra una foresta è un cazzo di ragno oh no 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 volevi oh fa cadere la trappola dai prendimi prendimi se ci riesci prendimi prendimi bene caruta vieni tutta tua e due tre dannazione ho mancato un pelo dai non posso sbagliare che se poi distrutto la trappola cazzo no è fuggito corri corri bene vai dai 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 sono sicuro che mi stai seguendo no per favore no 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 sono ancora vivo? come sono vivo? scappa scappa si ce l'ho fatta corri corri non saltare corri 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 forest corri dai corri 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 ai nooo ammazzio vai 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 ok eccolo di nuovo eccolo di nuovo si corri corri non piacere saltare corri piuttosto vuoi come me salta mentre corri c'è una patata gigante ah no una roccia ah spingo sto coso però devo tornare dietro perché sennò ecco scacciato ma si può essere così deficiente a cadere in un buco di merda ok via lancia sta polla poi il terratto mi fai a vedere hai messo i buchi wow hai fatto due bucarare alla regna te la sugli occhi così almeno puoi vedere dove stai andando dove ma porca miseria bene ora vai stai attento oddio 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 odd vivo sono liberato sì c'è ancora un pezzetto attaccato ai capelli ma non fa niente corri più veloce che puoi cazzo c'è un tizio lo sapevo che sarebbe successo una cosa del genere cazzo per favore non voglio trasformare sto gioco in un rage game bene corri 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 ok ok bene ok bene vai sì no 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 vado come mi sono salvato va bene ma dove cazzo è uscita bene bene raga ma quando scommetto che c'è il ragno lo sapevo lo sapevo perché delle viti ma è finto comunque lo stesso è il ragazzo è illuminato